Scusate, non faccio quella stupida pose! E te che fai? Buon thing, buon thing! Eh, che bella multi! Mamma mia, dai! Sparking! Eccola! Ok! Mi piace! Mi piace! Stai trasformandolo! Vai, bravo, vai! Ti do la non abbatte! Manco, manco! Manco tiro! Ok! Sì, stai facendo! Ok! Bene! Perfetto! Sparking! Con calma, con calma! Ma che gli faranno il Zenkai, vero? Con calma, con calma! Tanto glielo fanno il Zenkai a sto qua! Siamo solo agli in giro! Un altro? Alzo questo ranking! Buono, vabbè! Non lo butto, non lo butto! Io metto le statistiche! Ora comincia la parte tosta! Eh! Zamasu! Ok, pull rosso! Lo batte? No, magari! Magari neanche fai out! Vabbè, quello da 100! Vabbè, sì, quello da 100! C'è sempre che abbiamo un stacco da pullare! Ah, voglio! Uh! Nuvelo speedy! Ah! Ah! Ok, vabbè! Allora, la nuvelo speedy in serie significa VG nuovo! Uh! Tammizzata! Oddio, Ax! Tammizzata, Ax! Nail! Buonissimo nail! 3... 4... Eccola! Arriva! Eccola qui! E questa! E questa! E questa! Non lo butto! Non lo butto perché mi va a 3 stelle! Mamma che ansia! Oõmemmi! Oh mio dio! Oh mio dio! O mi dio! Oh mio dio! Oh mio dio! Oh mio dio! Che ansia! Oh mio dio! Che significa sta robo! Oh mio dio! Ma come and�E c'è questa cosa? Mi è uscita solo quella di Whiz Che bella Terza Quarto VG Quinto dai Quinto VG VG W Tranxikari Vai 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 E uno ce lo dobbiamo portare a casa E uno ce lo dobbiamo portare a casa E già è uno Un'altra Ottimo un'altra Brrr Tranxikari è a casa Ne è già un PC Tosto Ottimo Tosto Molto tosto Uno, due, tre, quattro, cinque la piccola Cinque la piccola Cinque la piccola Può uscire Bardak Può uscire Bardak E adesso mi esci Bardak No Ok ci ho sperato troppo Nel, ancora Nel Buonissimo Nel Nel è ottimo minchia Godfrey Raid per due Quinto step Raid per due E già è Tranxikari E già ho Tranxikari Quindi puntiamo Anzamasu Topa e poi puoi uscire Bardak Mamma mia Pigeonuo 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 Oh mio dio Tranx Pigeonuo Tranx e Pigeonuo Tranx è l'equivalente di Pigeonuo Tranx Pigeonuo Tranx Chiosi Oh mio dio Allora Altro che vecchio anniversario Primo Pigeonuo Sparkeing Packing Oh mio dio Tranxikari Buonissimo Tre stelle Tre stelle gratis Tre stelle gratis Tre stelle gratis L'ho detto io L'ho detto io Tranxikari Tre stelle Eh vabbè Tranxikari Tre stelle Buonissimo Ultima multi a pagamento Uno due tre quattro Cinque navicelle Di nuovo Di nuovo cinque navicelle Può uscire Bardak Niente Bardak Allora Io con le free Non vado molto d'accordo Raramente Ma Guarda Un po' tutti Guarda Oddio Cinque navicelle Con su Ma non c'ero Magari quella Sparkeing E vedi Magari Sparkeing Non commentiamo E non penso che mi esce altro Un altro Sparkeing Ma chi? Oh mio dio Oh mio dio Ma ci hai fatto l'abbonamento L'abbonamento Primo giro Ma dammi Zamasu Primo giro Adoro Sto dominio Vuoi di un altro Zamasu Mamma mia E fai esplodere il mondo Zamasu Mi piacerebbe Oh si un altro Zamasu Un altro Trunks E fai esplodere il mondo Ah si stelle Si stelle Si ok Oddio Un due tre quattro cinque Trunks Trunks quindi PGU Quindi Trunks Eh no dai Non me la buttare Vero Voglio Zamasu Un LF Comunque che non sia go Un carro armato Un carro armato Di Trunks Sei stelle Dai 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 Cosa dici Don't get coffee Zamasu Buonissimo Zamasu Vai Vai Zamasu Sì Sono tutti a casa Sì Su Ci Sì 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 Sì